Real-time city. Atomi e Bit si integrano e creano nuove possibilità. Infrastrutture complesse, a larga scala, diventano fonti infinite di dati. Consumo energetico, rifiuti, mobilità, assistenza sanitaria, istruzione, tecnologia, reti di sensori, banche dati aperte e accessi informativi diffusi. Le città diventano consapevoli e intelligenti. Ma anche le città devono avere un'anima. Per questo, palazzi e servizi smart hanno bisogno di smart citizen, cittadini attivi. Una città intelligente non è fatta di persone che si limitano a rispondere a input, ma di cittadini che rivestono un ruolo fondamentale, protagonisti del processo di raccolta e condivisione dei dati. Sono i cittadini connessi il motore del cambiamento urbano. delle città del futuro Grazie a tutti i nostri spettatori